Paolo e Giovanni D'Antrea in Butto Maso Forino sono gli acquisti più importanti dell'OS Poseidon. L'ex attaccante di Sanseverino, Forino, ha realizzato ben 19 gol e il pensierino del Poseidon si è calato proprio su di lui. Non nasconde la propria soddisfazione il direttore generale Carmine Caramante, il quale non si sbilancia il pallone rotondo, vedi ad esempio i montiali. Il DG Caramante porta avanti il principio della costruzione del progetto di pochi anni fa e che si sta rilevando incisivo. Grazie all'ottimo lavoro sinergico e sincronizzato tra Voza, Baratta, Squecco e Magaldi e lo stesso Caramante, un'ottima società che ha creato una compagine promettente per il 2018-2019 guidata da Mr. Fusco. Dallo stadio di Capaccio siamo insieme alla squadra Poseidon di Capaccio. Alla mia destra c'è Baratta, direttore sportivo, alla mia sinistra c'è Vosa. Il Poseidon è una delle tante squadre del girone D che è anche competitivo. Vosa, secondo lei in questo caso voi avete preparato un mercato un po' diverso rispetto agli altri anni? Diciamo che qualcosa in più l'abbiamo fatta. Cerchiamo di migliorarci in confronto a quello che abbiamo fatto negli anni passati. Sicuramente il campionato è abbastanza equilibrato quest'anno, quindi bisogna un pochino vedere su campo poi quello che abbiamo fatto durante questo periodo è positivo, altrimenti vediamo un pochino ma penso che resteremo come siamo e cercheremo di fare un buon campionato. Le nostre aspettative sono quelle, prima di tutto una salvezza tranquilla, poi tutto quello che viene è guadagnato. Direttore sportivo, quest'anno tra l'altro c'è anche il derby qui a Capaccio, davvero molto interessante questo calcio. È un calcio molto interessante, alla fine al di là del derby però voi puntate anche sul settore giovanile e in realtà in questo momento la squadra si sta allenando, vedete, fino a tardasera ad oggi pomeriggio. Davvero sono giorni molto importanti per avere una preparazione acquisita? Sì, sicuramente i giorni della preparazione sono importanti perché i ragazzi mettono un poco di forza nelle gambe che speriamo possa servire per tutto l'anno. Per quanto riguarda il settore giovanile, in effetti noi l'anno scorso abbiamo iniziato un progetto con il Presidente e con la società qua a Capaccio che è un progetto a largo raggio, quindi non comprende solo la prima squadra ma stiamo cercando di dare anche un settore giovanile importante. Infatti quest'anno abbiamo già formalizzato le iscrizioni ai campionati di giovanissimi regionali e mini allievi regionali mentre gli altri anni abbiamo fatto sempre i provinciali. Questo quindi sicuramente è un passo in avanti che abbiamo fatto rispetto agli altri anni e che dà continuità ad un progetto che è iniziato l'anno scorso. Giusto, un salto di qualità importante perché una squadra attraverso il settore giovanile si può mantenere nel tempo, altrimenti poi rimane a secco. Il progetto è proprio quello, quello di cercare di portare questi ragazzini nella prima squadra. Se qualcuno sarà più bravo andrà a giocare altrove, in squadre più importanti ma diciamo che l'ossatura della squadra sarà quella che uscirà dal nostro vivaio. È un progetto che stiamo portando avanti con impegno e cercando anche di farci dare la mano da qualcun altro che fino all'anno scorso non c'era, da quest'anno è entrato con noi in società e sicuramente sta dando un grosso contributo all'ottima riuscita del progetto. Non ci fermeremo quest'anno, andremo avanti anche l'anno prossimo cercando ancora di migliorarci. diciamo che siamo contenti di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo dobbiamo soltanto attendere l'inizio del campionato per vedere un pochino i nostri sforzi se vanno a buon fine, se siamo stati bravi a fare la campagna acquisti e tutto il resto. Ecco bene, direttore sportivo Baratta, il derby giustamente, io ho fatto una domanda al centro storico Salerno cioè praticamente ho detto sarà un campionato competitivo più verso Salerno centro o sarà un campionato competitivo sui picentini? Secondo lei invece, secondo la sua opinione, alla fine come andrà a finire? Cioè la competizione di cui si parla, anche se si parla di una competizione equilibrata però secondo lei l'asse che attualmente in genere fino all'anno scorso era girato intorno al Salernum quest'anno è ancora verso Salerno, è direzione Picentini o è direzione Capaccia e quindi ci sarà il derby delle grandi occasioni con la tribuna sempre piena qui a Capaccia? Magari se avessi la possibilità di poterlo prevedere come finisce il campionato sarebbe tutto più facile in questi periodi chiaramente la mia opinione è che, ripeto, io sono di Salerno quindi conosco sia il territorio di Salerno e sto iniziando a conoscere anche questo territorio al sud di Salerno e ho conosciuto negli anni quello a nord di Salerno sicuramente come bacino di utenza Salerno offre molto di più quindi le squadre di Salerno sono avvantaggiate anche nel reclutare ragazzi anche con rimborsi spese meno costosi rispetto ai nostri perché chiaramente chiamare un ragazzo da fuori per farlo venire a Capaccio chiaramente le spese sono maggiori mentre loro hanno più facilità di recuperare i ragazzi per quanto riguarda il campionato io penso che le squadre che giocheranno per vincere sono quelle che conosciamo c'è il Picciola che è retrocesso dall'eccellenza e che quindi voglio dire sappiamo che fa sempre investimenti importanti e sicuramente ha dei giocatori di grandissima qualità e penso che sia una delle candidate a vincere il campionato Poi la dottor L'Angri L'Angri farà parte del Girone D Penso che per Blasone e Piazza anche deve essere una delle candidate a vincere il campionato c'è la Calpazio che viene da anni di play-off di posizioni di alta classifica sappiamo che ha migliorato la squadra e quindi anche loro diciamo saranno sicuramente là sopra il Salernum perché no noi veniamo da due stagioni così e così voglio dire due anni fa ci siamo salvati ai play-out l'anno scorso abbiamo fatto un campionato di metà classifica come ha detto prima il Presidente noi puntiamo sempre a migliorarci quindi speriamo che quest'anno riusciremo a fare qualcosa di in più magari avvicinarci a lottare anche per le zone dei play-off già sarebbe un grandissimo risultato ringraziamo il direttore sportivo Baratta ringraziamo Voza sempre presente sempre preciso negli appuntamenti grazie all'attenzione su telesport.in